Una pacca sulla spalla per dare la conferma a Masiello che il derby del 15 maggio dello scorso anno sarebbe stato pilotato. Così l'ex difensore di Bari Atalanta avrebbe tirato in ballo Giuseppe Vives, 31enne ex centrocampista del Lecce, ora in forza al Torino. Andrea Masiello avrebbe fatto il nome di Vives per cinque anni tra le file del Lecce nel corso di un interrogatore in procura a Bari. A IPM Masiello avrebbe raccontato che per avere la certezza che la convine di Bari-Lecce sarebbe avvenuta realmente, doveva attendere un segnale in campo da parte di un calciatore del Lecce. Quel segnale, secondo le dichiarazioni di Masiello, sarebbe arrivato proprio da Vives che prima del fischio d'inizio gli avrebbe detto «Alla fine ci scambiamo la maglietta», avrebbe raccontato Masiello, aggiungendo il particolare di una pacca sulla spalla. Il messaggio chiaro, sempre secondo Masiello, che il taroccamento sarebbe avvenuto. Vives, interrogato da IPM Baresi, avrebbe negato tutto finendo comunque sul registro degli indagati. Il suo nome era già spuntato nell'inchiesta sul calcio scommesse a proposito di Inter Lecce del 20 marzo 2011, match terminato col punteggio di 1-0, che però, secondo le dichiarazioni di Massimo Erodiani, titolare di alcune agenzie di scommesse coinvolto nell'ambito dell'inchiesta, è ritenuto una delle figure centrali, sarebbe dovuto finire con un over, dopo che la banda degli Zingari avrebbe corrotto, sempre secondo Erodiani, quattro calciatori del Lecce, e cioè Corvia, Rosati, Ferrario e appunto Vives.